dicono questo ce li ha se questo fosse il format, il podcast di Puff Daddy sarebbe ben appropriato no io fossi PDD questo è quello che farei come vi sentite che voi state invecchiando e il mondo sta andando avanti senza di voi io sono abbastanza in comfort l'altro giorno stavo a ragionare sul fatto che sto avendo i primi segnali dell'invecchiamento tipo la perdita dei capelli quella ce l'ho sempre avuta non riesco più a riconoscermi nei giovani cioè in quello che dicono, in quello che pensano anzi il drama è anche una cosa che mi piace e che cerco di insegnare la vita ai più giovani allora bro, sono stato al Salerno Comics cazzo c'entra? Aspetta fammi cucinare vai, cucina alle fiere, i Maranza più giovani sono diventati i nerd e i nerd sono diventati Maranza in che senso i nerd? cioè la prima la capisco la seconda non tanto cioè che tu tu vedi i Maranzoni che sono i più nerdoni che comprano i fumetti e vanno da Dario Moccia no, non c'era Dario Moccia i cuozzi come vestito il Maranza che va a comprare però c'erano tutti i vestiti da Travis Scott non è Maranza però scusatemi una chiamata di lavoro troia numero 4 ma io da un lato swag che i ragazzini stanno tutti avanti capito? tipo che l'hai davvero misgenderato? scusati subito eccetera dall'altro dico non lo so cioè ci sta alcune cose che siano delle malattie mentali no? no come fai ad andare da una parte all'altra? nel senso dico se tu dici io sono un lupo furri e la mia fursona è questa ci sta che ti prendo per il culo un po' di bullismo serve in realtà invece sai perché ci sono più Maranza le fiere? proprio perché il bullismo non esiste più ma io non ho mai parlato di bullismo e quindi Maranza si sentono più a loro agio tra i nerd perché non li bullizzano più bro un tempo erano nemici ora non lo sono più un tempo erano nemici e adesso i nerd sono quelli sono quelli estremisti quelli fighi quelli che si sentono perché non si miscenderano eccetera perché sono nerd e quindi se la prendono con gli altri però adesso hanno ragione loro un tempo avevano ragione i bulli adesso i bulli hanno torto sono come i metallari all'epoca quando noi eravamo piccoli che le nostre amiche dicevano ah guarda attento c'è un punk che invece erano i più buoni del mondo i punk cioè adesso bro i punk sono persone buonissime anche quelli che vanno ho visto un video al number one di Brescia che fanno la piramide umana no per toccare il soffitto e poi crolla e si vedono tutti che aiutano tutti e sotto nei commenti i gopnik ah oddio ma non muore nessuno oddio ma questi tossici in realtà però c'è la cultura dell'essere amico e di andare lì a divertirsi in realtà ho scoperto che quelli anche quando siamo andati con Greg e Luis al festival d'art style l'ambiente è super figo e super chill è più maranza andare alla cioè è più pericoloso andare alla serata reggaeton parla anche un po' staccato no ci sta ci sta ma perché forse quando anche una corrente passa di moda rimane solo chi ci crede veramente in quella cosa là però ci sta che i giovini di adesso siano tutti gender fluid e ci sta che noi cioè quando eravamo ma chi cazzo ci paga la pensione quando siamo vecchi che questo è uno schema Ponzi chi ci paga la pensione tu dici che la società rischia di fallire e per questo dobbiamo far arrivare gli immigrati in Italia che ci pagheranno la pensione perché non sono gender fluid no perché fanno figli ah tu dici che se sei ok comunque la dici spesso sta roba dell'immigrazione in qualche modo la infili sempre nei discorsi è molto pro-immigrazione lui andrei tipo un po' destra un po' pro-immagrazione un po' è pro-sharia la legge della sharia in Italia manshallah spero che riceverai la spada dell'Islam prima o poi bro mio papà veniva chiamato il braccio sinistro di Allah il piede sinistro perché cosa fare lo correggo io cosa faccio perché gli altri goni erano già presi adesso l'ha già preso Exodi era già cioè mancava il formato da lui il piede mancava il piede ma com'è il bullismo di adesso secondo voi tipo delle medie inizio superiori perché da noi è quello social è quello di nascosto sì ma in classe ci sarà capito il bullo ma infatti vedi che lo sfogano su internet porca troia quanto sono incattivite le persone su internet ma è più i vecchi forse perché ora è la valvola di sfogo forse sì ma zio ma perché non puoi più farlo in effetti cioè se tu vai in classe e bullizzi uno adesso a 15 anni cosa ti cancellano tutti gli altri ti dicono basta con te non parliamo più cioè ti tolgono dai gruppi di whatsapp non ti seguono su instagram è che tu perdi follower e like non puoi permettertelo è che la cultura delle mani addosso non esiste più ecco la cultura dell'aggressione noi pensiamo alla cultura della borgheta 30 anni fa 40 anni fa 30-40 cioè a Roma c'era sta roba assurda tu quando bazzicavi no 40 anni fa poi i miei genitori nei quartieri c'era sta roba dove i quartieri si sfidavano fra di loro e c'era sta cosa della puncicata che era periente sfidarsi fra quartieri con un coltello legato con una corda in modo che uscisse solamente la punta e non tagliasse mortalmente sì sì una cosa e la sfida era colpire gli altri in punti non vitali per farli la puncicata non mortale tipo scherma ma a coltellare scherma di borgheta qual era l'obiettivo di questa cosa qui cosa si vinceva alla fine di questo la squadra che vinceva gli altri si scappavano perché prendevano troppe coltellate erano troppo feriti per combattere questa cosa è di 30 anni fa un tempo i giovani si divertivano non come adesso che vanno a scuola e baciano altri maschi e collezionano carte ma infatti che palle la puncicata era epica dovremmo riportare la puncicata anche i soldati nazisti facevano scherma con le spade e perché faceva figo avere le cicatrici ha detto il nonno nazista no faceva figo avere le cicatrici in faccia e quindi si sfidavano ma non con le spade finte con i fioretti finti con le spade vere poi si ringhiedero cioè rischiavano di farsi male davvero ovviamente con le spade ma tra nazisti sì 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 tra di loro nei circoli tipo e c'era un botto di generali nazisti soldati che avevano le cicatrici in faccia per ste spadate qua capite sai a Milano cosa c'era che non so se cioè non so se c'era anche a Roma eccetera praticamente era uno verso su uno vi lanciavate una monetina tu dovevi avere tipo il pugno appoggiato sul tavolo certo è un'altra cosa ancora però no però è tipo re boia perché c'è questo istinto maschile di far vedere che tu puoi prendere puoi sopportare più dolore rispetto all'altro bene perché sta roba è rispettata soprattutto è come quando andavi dall'amico tuo io spegnevi la sigaretta in faccia non l'ho mai fatto io non fumavo io facevo sta roba che era assurda però ma forse l'ho già detto c'era sto sto gioco fra amici e ovviamente tu c'hai la canna facevi per fargli fare il tiro al tuo amico e quando si avvicina con la bocca gli mettevi la roba rovente sulle labbra comunque Simone falese Simone era il bullo bro e ciò si ricordi tipo era troppo divertente con i miei amici altrimenti la persona si ci pensa fa no è stato il periodo brutto della mia vita c'era starebbe qua ma anche tipo con gli amici che prendivi a cazzotti gli alberi ti sgrugnavi tutte le nocche vabbè voi volevate solo scopare no c'era la roba di far cadere la monetina dal muro e con la testa dovevi fermarla quello invece l'ha detto hai detto delle stronzate la moneta sulle nocche e ti spaccavi oppure tipo e quel gioco di tirarsi gli schiaffi così sulle mani che ti sanguiavano le nocche quella è incredibile pure gascopata a sto punto c'era anche questa cosa assurda dove tu devi andare dal tuo amico e devi fare così sulla mano fortissimo finché non gli scavavi la carne chi resisteva di più vinceva top lo sai lo sai che ha ragione Anas perché questi sono giochi fatti perché non puoi ancora scopare quindi devi sfogarti in altri modi e no perché se no sarebbe anche male i giovani d'oggi invece cosa fanno limonano chi dura di più il primo che si stacca i gay fanno il bingo su discord bro domani vieni su discord che ci seguiamo forse è meglio il mondo di oggi sì effettivamente bro in realtà io ma abbiamo vince nei bagni però io pagherei per essere tra 300 anni e vedere come sarà però la discarica però come wall lee letteralmente vivi tutti obesi che fanno zizze e vanno in giro nico cado avocado tutti se tu sei nato così e dici non ti rendi conto che è brutto appunto hanno inventato il sesso 2 fra 300 anni però magari vedi come era un tempo e dici cazzo ma questi camminavano facevano cose c'era il velo c'erano gli alberi capito dicono che figo che figo andare a cavallo l'amazzonia sarà disboscata ma non è vero però non c'erano ripopolando però c'erano gli alberi ma non c'erano i macchinari dove dici cupcake che esce fuori un cupcake capito ma non sarà così secondo me il mondo futuro no secondo me saranno tutte capsule in cui siamo tutti dentro e viviamo in una sorta di matrix tipo perché il mondo è vivibile è letteralmente la trama di matrix ah il corpo è letteralmente il corpo ma scusa secondo me tra 300 anni sarà come le foto quelle sai 2012 le macchine volanti finalmente arriveremo è una cazzata bro finalmente avremo l'azzalto 2 metri baby baby l'azzalto sai che c'è un fumetto che ho letto posso dire una cosa vai tra 300 anni probabilmente ci sarà uno stipendio globale per godo godo bro porca bravaia spiega me e tu vuoi andare nel matrix e non riesci a risolvere un cancro ma non ti verrà proprio più continuo e tu scusami che privilegi stai a far così a vivere una vita perfetta vorresti far così perché penso che il mondo magari diventerà invivibile frate ma perché deve diventare invivibile ogni giorno ci dicono no abbiamo finito le risorse ma chi ce lo dice loro i poteri loro ce lo dicono dimmi chi quelli quelli là i Rothschild ma bro tu pensi che i pod di matrix aspetta tu pensi che i pod di matrix cioè tu dici avremo tutti la vita perfetta ma è una cazzata perché è ovvio che quello ricco avrà accesso ai server più fighi e farà una vita molto più figa della tua che invece sarai nella wasteland capito e minchia pensa che c'hai tipo i dlc esatto sei tipo dentro un gioco ubisoft figa devi se dentro un gioco vuoi prendere da bere che hai set c'è scritto devi sbloccare 400 vbucks magari lo sai cosa nel matrix ci saranno i più poveri e i ricchi staranno nell'unica parte di mondo che è agibile che sarà elisium perché se tu sei nel matrix non ti lamenti delle conseguenze che i poteri forti prendono è brainwashing quindi ma chi sono questi poteri forti bro e chi li ha resi forti chi non vuole stare nel matrix chi ha voglia di soffrire chi ha voglia di soffrire andrà avanti e farà un mondo migliore i falliti che non hanno voglia di soffrire entreranno nel matrix e saranno gli ultimi bro ma ti pare che devo spendere una roba biblica la mia vita a ricostruire i palazzi in cui non vivrò nemmeno io ma ci vivranno tipo i figli dei miei figli bro come poveracci che hanno costruito le metro assurdi sono dei capi ma non hanno manco usufruito dell'uso ma chi se ne prega il mondo sarebbe già finito da cent'anni capito comunque ancora mi dicono cioè sono anni che mi dicono e l'acqua sta finendo ma io quando apro quel rubinetto esce sempre anche io mi faccio ste docce di mezz'ora io se voglio la tengo aperta tutto il giorno e quell'acqua non finisce mai guarda quant'acqua c'è in quest'area minchia riempiamo quello che stavo stavo a vedere abbiamo preso un deumidificatore per lo studio poi in due ore dall'aria trasforma in due litri d'acqua e pensavo bro ma in Africa si deve un botto di due litri d'acqua ma è bevibile è umida l'Africa ma è bevibile quell'acqua secondo me ci sta è schifo secondo me non hai sali meglio dell'acqua fangosa vuoi fare un sorso no tu magari faresti un sorso comunque io perché perché non ti fanno schifo queste cose perché ha bevuto l'app di lui non sei più superiore a me comunque per rendere l'Africa ricca ci sono due step da fare che sono dare un deumidificatore dentro ad ogni casa e insegnare un linguaggio per sviluppare siti web tipo ci sono dei cibi che secondo voi anni fa erano tipo considerati tipo street food da poveracci adesso vanno a strada di moda secondo voi e costano un botto tipo secondo me tipo gli hamburger tipo soprattutto gli smash burger che a Milano magari lo paghi tipo 15 euro un hamburger ed è normale ma anni fa gli hamburger erano cibo easy veloce adesso sembra tipo quasi una roba gourmet sai una roba che costa un botto non mi sono mai spiegato il perché le insalate sì perché chi deve andare in un bar e fare un insalata e spende 8 euro cioè è la roba più povera che puoi trovare in giro si le tena in terba tipo perché è molto spatti da fare perché le cose che fanno bene costano di più anche se i materiali costano uguali perché ci vogliono deboli loro loro ci vogliono deboli bro però scusa tu quante volte ti fai l'insalata bro l'insalata al supermercato costa zero no lo so ma tu quando ti fai l'insalata cioè uno sbatti minchia devi prendere ogni cosa tagliare ogni cosa ci metti un pochettino ma che cazzo ci vuole cioè bro è più facile fare una pasta che un'insalata che cazzo dici la pasta la butti e ci butti il sugo e hai fatto i tempi di preparazione non devi tagliare 16 mila robe ti servono un botto di strumenti devi tagliare i pomodori la mozzarella le olive il tonno soprattutto devi comprare 16 mila robe per fare l'insalata ma cupa tu comprai il pomodoro l'insalata il sale il sugo lo conservi il sugo lo conservi ma che cazzo lo fai l'insalata col tonno le olive la mozzarella che cazzo il grana prendo tutto e lo metto dentro una ciotola ho capito e sbatti prendere sette cose per farti una merda di insalata ma tu mangi i cotoletti poi se vuoi fare ma che cazzo vuoi ha stra perso guarda qui ha cambiato infatti maionese porca troia perché reagisci con rabbia bro devi risolverlo perché mi dà contro è stupido no ci stava hai ciupato hai ciupato no vabbè sì sì il Ritzler comunque organizzarsi con Andre è crazy però ogni tanto ne parliamo e no sta moggando è finito bro c'hai 30 anni ormai è finita la tua struttura mascellare è quella bro facciamolo decidere al pubblico va bene la mia struttura mascellare è finita è finita oppure no non è vero può fare bone smashing ci siamo documentati ieri sai che c'è una pratica raccoglie digliela si chiama bone bone smashing quindi spaccarsi le ossa praticamente devi fare la stessa roba che fanno quelli che fanno muay thai con le tibie che tirano le tibiate tutta la vita le cose le tibie diventano grosse definite oppure ti fai il botox anche e tu cioè c'è gente che lo fa a quanto pare con tirando tipo i pugni così con le nocche tutto il giorno tipo sul mento e dopo due anni tipo però è da pazzi ti viene il mento tutto definito capito ma posso dire una cosa se andassi ditemi il nome di un podcast tintoria se andassi da tintoria secondo voi facessi questo risulterebbe inappropriata a tintoria pensa che sia una tintoria tinge e rapone io faccio tipo così vieni qua su chi lo fai allora su tinti e su rapone su rapone a me sembra solamente una scusa per importunare secondo me Monson fa queste cose i podcast tipo da Breaking Italy Eric Andre Eric Andre moment pensa da Breaking Italy Cerenzi Conte allora Conte allora ministro sai che smettete tocca a me il cazzo la scusa mi sta inculando è che vabbè anche lo schiccio nel senso che schifo non ci sono più anche tipo le robe degli amici che fanno oh bisellone oh ma perché lo tocchi veramente tutti su Anna qualche anno farò un video e dirò ecco la mia esperienza ad epico podcast la verità oscura dietro a questo podcast ma che video vuoi fare mi saluto aspetta la luce vabbè da tintoria sarebbe inappropriato no secondo me tintoria è cimbro un video dei gods ma parlando di podcast minchiai siamo i mates noi adesso siamo troppo i mates zio zio essendo che sei il CEO di internet eccetera mi spieghi una roba perché perché tutti noi dicevamo minchiai boomer la tv che merda che schifo la tv internet let's go let's go e adesso però Fabrizio Corona ovunque hai visto i video di Dario Moccia quale video di Dario Moccia c'è un video di una live che dice questa cosa esatta lo sapevo però allora ha spaccato cioè è vero ma ve l'ho anche detto anche voi ma perché stiamo imitando la trash tv quando siamo scappati dalla trash tv per anni è troppo vero cioè perché adesso tipo tutti chiamano Fabrizio Corona assurdo che hai detto una roba uguale a quello che ho detto noi ma neanche un ragionamento che c'è però è il tuo nemico cioè è inutile che fai coping cosa stai dicendo in questo modo bro secondo me secondo me fa comodo a tutti cioè non ne vuoi parlare non parlarne vuoi fare clip farming no non voglio fare clip farming perché allora diciamo internet è tutto clip farming in questo momento solo clip farming ma perché però Fabrizio Corona funziona così tanto cioè perché tutti sono interessati perché il gossip non morirà mai quel cazzo di gossip ma infatti tutti dicono ma tu ne stai parlando tutti tu l'hai tirato tu fuori l'argomento vedo che tutti ne parlano allora ne parlo pure io e allora sei cioè fai sto clip farmando fai il suo gioco no cioè se non ti piace non ne parlare no ma non è che però trovo interessante il fenomeno voglio parlare del fenomeno no però ha ragione lui perché è per questo che invitano Corona perché poi noi ne parliamo gli altri ne parlano perché fanno le clip farming su TikTok però perché la gente è interessata perché la gente guarda il contenuto di Corona capito perché siamo delle merde il gossip è comunque la prima roba Anas fai così però tra tutti quelli che gossipano guarda fai così vai mettiti a pippare ah lo sniffi lo sniffi ora ti lo clippano e diventi virale Anas l'ha sniffato ha coronato sei stato coronato vabbè comunque ma perché lui è risaputamente uno che ai tempi dava di scoop veri adesso cioè comunque le butta un po' che vuoi o non vuoi una personalità che potrebbe essere interessante al giorno d'oggi internet è pieno di ragazzini che parlano non sanno di che cazzo parlano magari la gente vede Corona e vuole e pensa che Corona abbia qualcosa da dire dica il vero e poi anche perché i tempi in cui lo dice sono utili da TikTok cioè tu devi fare 80.000 robe in un uomo devi fare tre cose diverse al secondo 30 secondi e poi stacchi tu devi anche valutare dove sta parlando Corona perché Corona adesso dove va a parlare le podcast va a parlare da Rosso da Grimbaud dove il pubblico di ragazzini vede Corona e dice porco due Corona cioè non è il TikToker di 18 anni che dice cazzate su come rimuotare gli dà un peso diverso i ragazzini non sanno chi sia Corona gli danno i ragazzini non sanno chi è Corona però vedono in Corona un'entità un po' più è come fai il figo tra i nerd sì capito quello che dico cioè come se vai sei la figa che fa cosplay con il tetto nel culone vai dai nerd che non so abito di una persona nel genere e sei abisello basta assurdo che mi hai detto che ho copiato Dario Moccia vi odio non ne hai mai avuto allora è un tuo nemico non è un nemico e perché dici ci odi perché sarebbe negativa questa cosa ho detto che Fabrizio Corona è tipo Andrew Tate italiano in questo momento che tutti lo chiamano ma io non me lo ricordo l'ho detto io so solo che stamattina ho visto questa clip di Dario Moccia no no me la sono segnata anche sul telefono sta roba due giorni fa ce l'ho qui è il tuo subconscio comunque è gravissimo che la luce sia saltata ma che cazzo vuoi bro ma perché qualcuno tocca là dietro e è staccato qualcuno sei tu bro qualcuno sei tu non sono io come cazzo faccio a essere io ma quindi sta roba delle treccine bro perché ti è girata ho i capelli lunghi ho detto ah si proviamo ma non hai paura di sembrare una merda no ma che è sta paura scusami no non so sei insicuro no no sei insicuro il fatto che sei uscito dalla zona di comfort cioè ti sei svegliato e ho detto ma mi faccio le treccine capito ma divento di hop ma questo è un uomo che oramai è sicuro di se stesso no no però uno ha i capelli lunghi proviamo posso farti una domanda da one more time bro no ti prego dai ti prego fammela fare bro scongiura fagliela qual è la tua più grande insicurezza bello questo la fede la fede no non lo so la figa vabbè c'è un'insicurezza una roba che tipo hai paura proprio che accade tante tipo bro dimmene una figa boh porca troia fentanyl brain non sei magari insicuro il tuo aspetto non ne sei insicuro insicuro sì ok ah ne abbiamo trovata una quindi sei insicuro del tuo aspetto fisico sì e ci tieni è una roba che curi ma minchia mangia benissimo bro no guarda che capelli è una roba che dico ok si può cambiare piano piano ci lavori attivamente vabbè però in effetti vai in palestra eccetera ma quando ti guardi l'ospetti ora è nudo sotto il pile non mi piace questo naso non mi piacciono queste orecchie vorrei essere in un altro corpo ma ti rifaresti tipo nel corpo di una donna nel corpo di una donna no nel corpo di Leonardo DiCaprio nel corpo di tante donne di tante donne no ok il lavoro insicuro ma secondo me quando c'erano degli eventi delle robe grossi mi andavano i sbatti ma tipo in che senso le robe grosse davanti al pubblico no devi intervistare qualcuno che non conosce tipo X metti Johnny Scandal ma quelle robe tipo ad Amazon dici no ma perché Johnny Scandal bro ma qual è la paura Johnny Scandal l'unico che non mi metterebbe dove nasce la paura che non so magari cosa dirgli per un'ora quindi hai paura di non performare non esistono più le mezze stagioni sei in sicurezza sei in sicura dei tuoi talenti sono in sicura c'ho l'ansia c'hai l'ansia però ti aiuta a fare meglio l'ansia bro troppo e poi con Johnny Scandal ci vibe o no in qualche modo la risolvi allora devo dire sì ma l'hai fatta sta roba o era no era un'ipotesi ok tra i nomi comunque Johnny Scandal è quello che potrebbe mettermi un po' ma perché tu dici non lo conosco e minchia questo magari non capisce le mie battute tipo sì oppure dico ok conosco tre cose che ha fatto faccio un esempio e ci devo durare ok tipo con Rose Villan io ho detto bro è incredibile però alla fine è uscita abbastanza sueggata lei non ha capito ma perché sì ma perché poi dopo dieci minuti che parli della musica o di altre cose la butti sul generale eh sì per forza io odio Rose Villan perché l'ho intervistata quattro volte tipo e ogni volta lei credo mi odi oppure si sente a disagio con me perché io quando gli faccio le domande ogni tanto gli dico ti canticchio una canzone tu devi indovinare che canzone è vabbè quel gioco però l'hai fatto male no non l'ho fatto male l'hai fatto male perché l'hai fatto anche a noi e nessuno ha capito e lei mi guarda proprio come questo stupido mi sta parlando capito e più volte è successo che mentre ci parlavo e facevo le domande lei mi rispondesse proprio come tipo ah sto ragazzino sto coglione con sufficienza però me l'hai abituato a domande del tipo come hai iniziato la tua carriera e chi artisti ti ispirano capito domande di un certo livello allora chi è lo stupido fra i due no no io sono d'accordo con te fra lo sai però chi è che diceva Rose Villan ah sì la fuck your click diceva qualcosa hai l'ansia che stiamo scopando la tua tipo adesso bro no tu non ce l'ha una tipo ma l'ansia che la tua tipo stia venendo scopata adesso da Jamal è un problema tuo o no mio ma Jamal è diventato lui adesso ho un video da farti vedere bro la gente i tuoi amici sono sempre mega felici di dirti una notizia orribile sulla tua fidanzata comunque ma chi ma non so hai mai visto c'è qualcuno però tu secondo me se hai questa cosa il tuo amico aspetta che con il sorriso più grande che tu abbia mai visto che ti fa non sa che ho visto ieri sera bro dici idea però te lo dicono proprio un sorriso senza Anas vabbè no la vita di Anas ed è il protagonista di Old Boy incredibile tutto traumatizzato però sei il protagonista e ti scopri tua figlia è figa mia figlia hai spoilerato il film è vero hai spoilerato il film di brutto assurdo che hai visto Old Boy fra quando ti facevo uno da cinema coreano infatti scusa tu guardi cinema sì sta cosa non la so no io tu ero un po' autista guarda la sette abbiamo vissuto insieme 8-9 anni avremmo visto un film ha visto si ricubro ho visto so domani eh sì sarò 21 giorni di sarò bro ma a me i film mi fanno cagare perché so già cioè capisco la trama c'è so già però quelli tipo Old Boy no cazzata però quelli tipo Old Boy no infatti quelli mi piacciono però a trovarli ma chiaro che se ti guardi Fast and Furious bro cioè però ci sono un sacco di film interessanti che non individuvi la trama sì ma ma lo segui il progetto Criticoni no non seguo io lo seguo io lo seguo io non seguo nessuno che parla di cinema ma tu che media consumi bro cioè tu ti siedi sul divano e guardi i documentari cazzo guardi bro guardo le maratone di Mentana sì il telegiornale no guardo tipo guardo cose a caso guardo Chris che gioca al casino sì in effetti tu guardi tanto quella roba lì però guardi tanti documentari posso fare un showdown a Chris comunque ha fatto un video incredibile e mi è comparso quale? guardo un porno gay finché non mi viene duro forse era una roba del genere o comunque il concetto perché lo volevi far tu? mi è piaciuto mi è piaciuto ho pensato damn ha spaccato poi non l'ho visto perché hai detto magari lo guarderò più ma è il meme che poi il video dura tre secondi tipo? no 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 era un video reale di lui ma durava una decina di minuti ci sta fare il video guardo un po' la cosa è che guardo prevalentemente tiktok per vedere cosa va perché c'ho l'algoritmo che funziona cosa esce e poi su youtube adesso mi compaiono cioè è cambiato tutto e mi compaiono boh le cose un po' più normali hai il feed normaloide? no però ho il feed abbastanza easy di cose americane ora e qualche roba di surri a me è un bot cioè il mio feed è pieno di donald trump cioè dire che di youtuber italiani non c'è mai stata una nuova generazione di gente che fa video l'ultima l'ultima wave peso è stata ma poi scusami se uno spaccato tanto te ne accorgi cioè ti compare sì ti compare invece non c'è non so perché non ci sono almeno io non ne vedo poi magari ci sono però non c'è stata più una wave di youtuber grandi nuova sono sempre gli stessi da anni e alcuni sono un po' bolliti altri no però tipo chi è che è bollito? Anas fai i nomi e i cognomi Anima bollito ma non fai neanche più video stiamo parlando anche di una persona che ha posso dirti chi non è bollito? Surri secondo me ci sta il video da pranzo spacca sì è vero io mi guardo anche Marcello Ascani Ciccio Gamer è bollito cioè vabbè ma loro sono molto più vecchi io parlavo di quelli tipo gli Achidale che sono vecchi ma non così tanto tu stai parlando però di sono bolliti ora o sono sempre stati bolliti? no sono bolliti ora che sono invecchiati male bro eh non si sono aggiornati quindi sono rimasti gli stessi allora internet è cambiato non loro allora sono sempre stati bolliti solo che solo che ad oggi sono nello stufato e una volta erano erano il primo ma ti pare che tu ti lamenti delle poche views che fai cioè le poche views che fai non è colpa del tuo pubblico ma è colpa tua vabbè ma sì è chiaro bro ma era copium e ti lamenti per cosa? per niente hai avuto un momento che sei stato in hype poi è passato e basta ce l'ho una domanda per te che altro assurdo che è stato però basta parlare di twitch no ce l'ho una domanda per te per internet c'è di internet tu a te mandai sbatti il fatto che internet si muove così velocemente no da persona che lavora nell'internet no però la cosa è che ci sono alcune cose che dico mi piacciono vorrei vorrei che swaggerle insieme alcune cose che dico basta sto trend sta way fa proprio cagare quindi tu tu credi di aver capito l'internet cioè che di essere arrivato un momento in cui hai capito il segreto dell'internet e come staccio dietro ma non devi capire il segreto dell'internet devi capire te stesso merda mi sembra un po' gratuita questa se tu capisci te stesso e cosa ti piace capisci internet e a te adesso cosa piace perché per lo fare per stare sull'internet devi stare indietro l'internet tu sei schiavo dell'internet Andrea tutti siamo schiavi per lavorare su internet devi anche conoscerlo non c'è te stesso nell'internet vabbè raga ma scusate è come se ciccio gamer scusami Simone ma l'algoritmo di internet non sei te no sì perché il tuo algoritmo è quello che piace a te quindi è una rappresentazione di te stesso non se lavori nell'internet perché tu crei nell'internet tu sei nell'internet come parte dell'internet sì secondo me bro quindi è l'internet ma non basta quello non essere dei bolliti secondo me la differenza bro è che se sei bollito sei bollito i trend nuovi meme eccetera non è che fai fatica a capirlo devi metterti lì cioè come se tu ci fai questa giornata Simone se tu conosci in qualche modo il linguaggio dell'internet a modo tuo va bene ma comunque devi avere il vocabolario dell'internet ma ti dico questo ma non ha parole è proprio un vocabolario inteso come bisogna sapere come trattare l'internet allora ti dico questo se tu conosci te stesso conosci cosa ti piace se qualcosa piace a te vuol dire che piacerà anche agli altri ok non sempre alla tua cerchia molto probabilmente magari ciccio gamer ma i suoi video non credo proprio e quindi se tu fai qualcosa che piace a te poi piace agli altri la cosa difficile su internet è diventare qualcuno perché probabilmente quella cosa che piace a te piace agli altri l'ha già fatta qualcuno e c'è già qualcuno che la sta facendo però tu non hai questo problema perché sei già famoso quindi funziona se poi vuoi fare i video sulle candele bussa alla porta della realtà e dice ok non funziona però secondo me devi mettere un 80% 70% quello che piace a te un 30% 40% strizzi un po' l'occhiolino cioè nella vita come insegna Puff Daddy lo dobbiamo tutti prendere nel culo capito quindi fai un'altalena saresti andato a una festa di Diddy se ti avessi invitato sì ma pensa a quelli che ci sono andati e se ti avessi a un certo punto eri tu in bagno entra Diddy chiida la porta e fa sai oh mi ha tolto accetta questo dolore io gli alzavo le mani a Diddy ma scusa pensa a quelli che ci sono fatti dindlare da Diddy ma poi era troppo agli altri che ti scivolava continua a me non riusciva a beccare infatti bro che stupidaggini che si sono fatti stupro abbazzava che ti rompivano gli olio e gli sgusciavi via sai che i ragazzi no bastava stringere il buco del culo tanto forte e non entrava niente vi racconto questo ma ve l'ho già raccontato scusa pensa a uno che è stato diddlato da Diddy tipo cinque giorni prima che lo sgamassero cioè tu ti sei fatto scopare per niente per niente ma non è vero tu lo denunci sì però non ti ha fatto diventare una superstar cioè quello era l'obiettivo hai due dei tre milioni cioè li hai secondo me è un processo che comunque richiede un paio di mesi comunque da ragazzino e per lui morirà e perché si suiciderà quanto è fatto il suo suicidio in cui le telecamere hanno smesso di funzionare però scusate se ricapita di nuovo c'è qualcosa dovrà per succedere nel senso se si rompe di nuovo quella singola telecamera di quella singola cella cioè ci sarà qualcuno che dirà facciamo un'indagine Forria questa volta ma penso che o tutti possono semplicemente chiudere gli occhi su queste cose che sono plateali e cioè hey chat LGBT mi spieghi come se fosse un comico romano de Roma quanto è quotata la morte di Puff Daddy o il suicidio di Puff Daddy chissà come sarà il futuro nel 2024 il futuro ah bella immagina sta scena te stai lì col panino con la porchetta a parlare di Puff Daddy e arriva uno e ti dice oh ma sai quanto è quotata la morte di Puff Daddy o addirittura il suicidio eh frate sta roba è come andare a giocare alla schedina del totocalcio pensando che l'ass Roma vinca 10 a 0 con la Juve roba che manco Nostradamus se l'aspettava scerti a parte queste robe di morte e suicidio se ne parla ogni tanto tra i complottari o i fan che fanno le ipotesi più strane ma non ci stanno mica quotazioni vere eh capito fa morire fa morire che adesso tutti i rapper eccetera sono lì a dire avete visto che un sacco di artisti hanno cancellato tutta la loro cronologia di twitter o c'è Justin Bieber che a quanto pare è molto preso male è triste ed è chiuso in casa sua non si fa più sentire che dici palese sta solo aspettando che schia il video di un inculato 800.000 follower chi Jay-Z e quantina è la prima 4 milioni 800.000 ma c'è più follower Danny Lazarin di Jay-Z adesso ma per sto fatto qua sì sì ma scusami nel senso perché la gente è sorpresa io da quando ho piccolo che sento teorie su Jay-Z oppure sul fatto anche quando scoprono che non c'è liberità pippa dico boh minchia quello è diverso da avere un circolo di schiavisti sessuali pippare il fatto è che mi fa ridere che oggi che Puff Daddy è in carcere cioè che è in carcere non credo sia in carcere è in prigione è in prigione qualcuno aveva preso il suo posto però come si chiama quando in America paghi la cauzione da 50 milioni e il giudice fa no no zio zio assurdo questo ce li ha comunque se questo fosse il format il podcast di Puff Daddy sarebbe inappropriato no io fossi PDD questo è quello che farei fatte scopà fatte scopà comunque è assurdo avevo una domanda strasera sono anni 15 anni Anas mi denuncia sono anni che esistono tipo i pezzi di Kenny West gente che nei podcast manda frecciatine a Puff Daddy Puff Daddy nel 97 cioè Kenny West nel 97 aveva predictato questa cosa di Puff Daddy c'è una canzone in cui lo dice Puff Daddy nel 2024 vabbè ma perché sta gente lo sa coronavirus ma anche South Park anche in Scary Movie sì in Scary Movie anche c'è c'è una scena vecchia dei Simpsons dove c'è Puff Daddy che abbraccia uno e fa con l'olio e sparare via no non è vero non so se mi stai non è vero però ci sta però comunque nel tempo in tantissimi prodotti tra cui musica e cinema parlavano di Puff Daddy come la gente che va i party di Puff Daddy per scopare diventa ricco 50 Cent lo dice da una vita 50 Cent ha fatto il documentario ha fatto il podcast no è andato da Actua Podcast c'è una clip assurda di come si chiama Mike Tyson che sta in uno show famoso americano c'è Puff Daddy vicino che gli mette la mano qua e Mike Tyson gli leva la mano e si mette vicino così lo sapevano tutti tutti lo sapevano se tu le rapporti alle persone normali cioè la realtà normale è uguale cioè c'è quella festa dove il tipo mette la droga nel drink alle tipe e poi viene arrestato tipo Anas a Rocket sì però è divertente per noi comuni mortali quando questa cosa è uno scandalo che potrebbe prendere un botto di artisti mondiali alla fine sta quella è la figata io già non vedo l'ora che tirano fuori la lista potrebbero fare il toto calcio cioè tipo il toto dead pensate sempre alle scommesse voi sì ultimamente sì io sono qui ma comunque 50 Cent ha venduto i diritti a Netflix del documentario suo su Puff Daddy che si chiama Diddy Do It sì sì lo so lo so vabbè ma 50 è da 10 no da più di 20 anni sarà lì che dice no no statemi lontano ma anche Catt Williams nell'intervista dell'anno scorso ha detto se Puff Daddy ti invita a una festa devi dire di no non devi andare alla festa cioè in realtà cioè in realtà la fine sono quelle cose perché comunque è difficile nascondere una roba del genere hai visto le clip del suo campo da basket in casa che ha due letti matrimoniali di fianco al campo da basket cioè tutte cose giocavano 5 vs 5 o gli ati e chi vince e la clip di Neio no Asher o Neio no mi sa Neio che c'è tipo la sua tipo fidanzata che gli fa hai visto ti sgammeranno per questi freak off che fai con Puff Daddy e lui tipo dice di cosa stai parlando di un anno fa tipo l'hanno ritirata fuori quindi tutti sapevano tutto alla fine è assurdo il fratello Puff Daddy poverino perché? cioè adesso lo odiano tutti però quando faceva come la gente quel cazzo che lo odiavano io l'ho incontrato cioè come torre come si chiama palazzo paradiso come era terrazza paradiso terrazza paradiso cioè che tipo le pischelle no andavano là si facevano la cocaina scopavano e tutto e poi a un certo punto è diventato no quel periodo lì mi hanno stuprato un incubo sì però comunque ci sei andato capito non voglio non voglio dire fare victim lo voglio dire stuprare va bene perché un quel tipo ha fatto delle cazzate però dico anche cioè assumiti anche le tue colpe cioè tu dici Justin Bieber comunque il culo gliela ha dato sì assumiti le tue cazzate colpe per non fare la vittima al 100% e di mi faceva comodo succhiargli il cazzo me ne sono pentito ma il problema è che Justin Bieber gli è successo quando aveva tipo 15 anni 16 anni sì ma togli Justin Bieber e quindi quello è brutto però se sei Mick Mill che ne ha 35 e sei mezzo sposato con Nicki Minaj ma perché ti fai scopare da Pop Dead cioè lì diventa non puoi lamentarti cioè l'hai scelto tu capito cioè mi ha scopato il mostro no hai scopato il mostro ti sei fatto scopare dal mostro perché sì non penso che il tipo è andato da tua madre l'ha legata e ha detto se non mi scopi adesso te la uccido magari l'ha fatto comunque Pop Dead deve avere anche un carisma crazy perché convincere così tanta gente etero ma l'hanno drogati ai milioni ma che vuol dire gli hanno drogati spiegami dai GHB nei drink questo non so se no lui in realtà quando lo faccio a 100 persone lo sai che vai là e ti fai drogare c'è un prezzo che ti droghi ma no lui la prima volta non si sa o li convinceva però li scopava in qualche modo poi dalla prima volta in poi semplicemente li minacciava con i tape perché lui filmava tutto quella roba assurda mi fa morire che erano in casa i video cioè non è che li ha nascosti da qualche parte chissà che seguono gli hanno sgamati tutti capito ti ricordi l'audio quello di Mick Mill cioè quello tipo di due mesi fa quando ancora non si capiva bene sta situazione fosse vera o no che si sentiva lui scopato da Puff Dead no ma in realtà è un audio che non è mai stato confermato ma adesso è molto più realistico sì ma proprio nel senso chill chill vabbè Anas che mi dice che non crede a un complotto è assurdo siamo arrivati prima di GTA 6 prima mi era venuto minchia non c'è prima di GTA 6 Anas che non crede a un complotto questa cosa devi finire nei commenti mi era venuta in mente una roba assurda una domanda che forse è assurda forse è una merda non lo so però quando parlavamo di internet e ti ha fatto quella domanda bro cioè comunque c'hai tipo 30 anni capito era epico se ne avevi tipo 17 adesso fra ero più ricco non era epico no però se guardavi tipo tu sei tipo un fan di Ashes of Speed eccetera no comunque mi hai detto che ti piace non esistevano no dico se adesso avere 18 anni 19 adesso potresti fare più robe perché comunque essendo che ne hai un po' che cazzo ne so come me la sarei vissuta no 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 ma proprio tu adesso con la tua stessa coscienza che fa le tue robe ma c'hai 20 anni e quindi puoi fare tot robe che magari dici perché non le posso fare adesso dici reincarnarti bro ci sta che a 32 anni non fai certe cose secondo me no che però a 20 anni ci sta però l'età non ha tutto questo limite dite che pensi tu a meno che non sei un 45enne che lì magari davvero tu mangi bro ci puoi spiriti che tuerchi e fa tuercare i bambini ok ci può stare nei 17 18 nei 33 se fai tuercare i tuoi fan di 20 30 25 30 non credo che i tuoi fan di 30 anni tuerchi ma beh che in realtà la carriera che abbiamo vissuto insieme io e Andrea non era così distante da ShowSpink cioè noi che andavamo in giro con le live e ci trovavamo fuori dai i ristoranti con tutto il paese con 150 persone che ti bussava sulle pareti non ci faceva uscita ah mi che avete vissuto sì ma situazioni molto simili tante volte dove c'era stato un periodo in cui siamo andati a Padova io e Andrea e abbiamo beccato cioè sono rinunati questi 20 fan e abbiamo fatto le olimpiadi con i fan cioè che c'erano delle sfide dove fate le flessioni e eliminato quello che ha fatto meno flessioni oppure fate il freestyle fate il freestyle varie sfide cioè c'erano dinamiche simili chiami il cazzo quindi l'abbiamo vissuto perché ripeterlo no ci sta ci sta ci sta ma non sapevo se era una bella domanda ho detto mi era venuta in mente poteva essere mid e lo era no non lo era non lo era non lo era era mediocre usiamo i termini italiani no non stupriamo l'italiano che cazzata usare i termini italiani a tutti i costi no non dico a tutti i costi quando facciamo le clip su tiktok minchia c'è sempre qualcuno che fa ha detto ditemi un termine che usiamo spesso noi che mi viene in mente yoloun bro la gente si la mette quando diciamo brutta troppe volte ma porca puttana ma si capisce il senso del discorso ma chi se ne frega ci sta che la lingua si evolva pian piano sai chi si incazza per ste cose chi? le mamme la rimoccia la rimoccia mi succhia il cazzo oh oh no mi fa incazzare ma perché dovresti incazzarti se uno usa dei termini degli inglesismi ci sta che comunque con la globalizzazione consumiamo tutti un sacco di media ma perché la rimoccia è toscano quindi c'ha sta fissa la rimoccia c'ha un po' voglio dire gaslightare dico gaslightare capito? la rimoccia un po' a volte fa il tribunale che lui dice le sentenze minchia il CEO di Twitch quello che dice lui è legge perché se ne è andato il cerbero quindi fa il cerbero a volte Dario Moccia è andato alle feste di Diddy minchia per diventare così famoso qualcosa ha fatto ah Blur è andato alle feste di Diddy perché? eh però vuoi parlare di Blur il re del re è andato cazzo è Tony Tubo ma sì perché Blur alla fine però c'ha dei numeri che non hanno senso di esistere a livello proprio globale è che c'è Blur e poi sotto di lui non c'è nessuno c'è Dario Moccia e basta eh ma Dario Moccia però comunque la metà è rosso c'è la metà ma meno della metà però cioè comunque Blur c'ha quasi 60.000 abbonati eh bro ma in Italia c'è così poca gente che fa le robe cioè in realtà ce n'è tanta ma on top ce n'è pochissima il fenomeno di Blur aspetta e Blur quindi è come Sfera e Basta nel 2016 cioè se arrivi primo poi tutti guardano te perché la gente non è che va a vedere gli altri capito? cioè i nuovi che aprono Twitch vedono Blur e guardano Blur e quindi è una palla di neve capito? non c'è nessuno che ci si avvicina capito? tutti guardano Blur bro ma perché nessuno fa niente di interessante bro e invece non è vero neanche Blur ma Blur vabbè c'è il suo talento e lo riconosco sì 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 però fa reaction e commenta bene e gestisce bene sì ma io penso che comunque cioè la mia opinione su ste robe è che nessuno cioè per quanto Blur sia bravo e capisco che è bravo e lo riconosco cioè nessuno secondo me regge davvero bene tutte quelle ore di streaming io voglio dire una cosa che niente contro voglio dire una cosa se Ross avesse 300 spectre di media le persone intorno a lui nelle live ridrebbero gli ospiti eh sì non l'ho mai seguito quindi non saprei dirti se è simpatico cioè nel senso le persone vanno lì per avere clout al 90% vabbè ma come con tutti top sì però tipo io immagino che nelle live di Dario di Blur si divertano gli ospiti nelle live del Rosso dici che vanno lì e gli fa ridere capito vanno lì perché dice mi conviene andare nella live del Rosso tipo sai Tony Boy secondo me sì mi conviene e quindi anche se lui fa una gag che non mi fa ridere rido perché ha tanti spec no secondo me se sei Tony Boy bro lo fai perché sei comunque una persona che non è internettiana quindi il Rosso ti fa anche ridere cioè capito sì ma anche tutti i tiktoker magari a me ogni tanto mi capita di le clip che c'è queste persone sembra tutti modelli per qualche motivo Dario Moccia comunque invita gente che palese lo seguo l'apprezza e quindi c'è del rispetto magari gente come il Rosso così è più appunto ah c'è 10.000 spectoni e vado lì è più pop certo ma è come così in ogni roba però è normale quindi per ritornare a prendere ospiti su Twitch Forte devo fare almeno 15.000 view io non voglio disrispettare nessuno ma non hai capito come cazzo chi cazzo si siede e guarda 8 ore di fila di stream e continua a spammare roba in chat cioè è background è come un podcast però c'è tanta gente mega attiva ma tipo ore 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 i chatter sono dei disadattati i chatter vogliono sono i migliori vogliono comunicare anche con la chat non con lo streamer capito vogliono far parte di qualcosa sei il mio faro ti ricordi sei il mio faro nella notte buia non me lo ricordo che andavamo dagli streamer con tre spect uno due tre quello me lo ricordo e poi iniziavamo noi tre a litigare e a distraire i moderatori comunque era una figata il concetto di chat c'è chi scrive in chat secondo me si diverte è figo perché comunque io ho vissuto Twitch e ho conosciuto la chat e molte persone si sono fidanzati con la concetto questo è crazy no no invece è figo cioè non era da pazzi era figo cioè io credo che ad oggi ci siano ancora tipo una coppia di ragazzi Alessia e mi ricordo l'altro come si chiama che stanno ancora insieme e si sono conosciuti Alessia e Mr. Whatsapp e Mr. Tomato Mr. Whatsapp nella tua chat John Park cioè immagina tipo mamma papà ma voi come vi siete conosciuti nella chat vabbè però abbiamo un amico che letteralmente è riuscito ad avere una figlia un figlio beh quando ci entra Tinder è una roba che è fatta apposta per quello forse è peggio no non è vero bro perché tu nella chat di Twitch vai là perché stai guardando uno che dice le sue cazzate e su Tinder cosa vuoi prendere cazzi a profusione scopar mille fighe su Tinder sei là perché entrambi volete uscire con una persona probabilmente si scopare però non vuol dire che se vuoi scopare non puoi essere una persona normale ah se ci siamo conosciuti nella chat del rosso capito cioè è diverso ci siamo conosciuti in un'app dove ero disperato non riuscivo a trovare la mia compagna disperato non è detto capricorno e mi piace andare al mare ah perché tu come conosci le tipi al bar ma sei pazzo in altri contesti la tua ragazza come l'hai conosciuta come l'hai conosciuta la tua ragazza parla lui che mi ricordo quando usava Tinder e a tutti i match mandava un poliziotto nero eh che ci stai swag però ho smesso sì perché sei fidanzato ho smesso prima ma io so che se ti lascio due giorni dopo ce l'hai bro ma va ma sì ma fa niente va bene così ma poi scusami uno dei tuoi migliori amici bro ha fatto un figlio con una ragazza che ha conosciuto su League of Legends e sono felici top appunto che League of Legends non è un posto dove tu conosci i tipe non era League of Legends era Discord è ancora adesso ancora peggio allora Discord non sono posti dove vai apposta per conoscere il sesso posto bro Discord sei là e parli con degli amici sei un amico no arriva una figa perché sei cento cazzi arriva una e su Discord cento uno i cento cazzi sono tutti a parare con quella figa che le scrivono in privato allora a parte che non è vera sì che è vero allora non è vero io quello che dice Anas nello specifico però arriva non era così e mi ricordo ma che cazzo vuol dire eh cosa fai tutti noi quattro su Discord siamo tutti a parare e se tu dici no è perché vuoi fare il figo per non darle attenzione perché speri che lei ti caghi no allora dipende giusto Anas sono d'accordo queste sono dinamiche che comunque sono dinamiche che ci sono anche al bar allora che cazzo vuol dire sei in sette amici seduti al tavolo si siede una un'amica di un tipo no bro mi sembri naiv cioè tu mi stai dicendo che nei forum su Discord e in tutti questi posti quando arriva una tipa una tipa che anche lei è un po' quello è vero ho giocato a Valorant non si impano tutti per questa bro dai quello è vero è una roba che mi fastidisce e poi arriva Barengo succede la stessa cosa se è famoso sì in realtà non fare mai più il nome di a parte che perché Barengo Barengo Johnny Scandal ma che ma che non lo so comunque no comunque la chat di Twitch non è lì non sei lì per conoscere persone ma è quello tu devi essere d'accordo con quello che ti do adesso tu quando sei su Tinder e quando hai una conversazione con la persona che matchi tu parti già con l'idea che quella tu valuti già il fatto di stare con quella persona là è una roba stratossica per conoscere una persona invece quando è molto più figo quando invece parli con una persona e poi il pensiero di cazzo ci starei troppo bene insieme viene dopo invece quando tu hai una conversazione con una persona ma non è vero tu parti già prevenuto pensando io scrivo a questa persona perché voglio starci insieme ma non è vero ho valuto l'opportunità è da pazzi così è da pazzi è così non è vero tu matchi con una voglio scopare punto sei lì apposta e tu matchi lì e le scrivi è un test e se finisci a scopare non è vero è un test sì perché quando io matcho la conversazione finisce tutto ma sei minsel bro vediamo se questa persona è adatta a me no è la verità sì perché tu quando parli con una persona dici cazzo si scrivo vediamo come va minchia raga scopate sento sta tensione sto finito di puttata sta romanticizzando tinder bro lo romanticizza sto coglione eh misellone allora con calma con calma con calma mi prendi la sigaretta tu delfino l'hai conosciuta su tinder io non sono mai stato su tinder bro cazzata perché ti ho visto su tinder bro sì l'ho scaricato ero pronto e bro non ho voglia di scrivere alle ragazze ma è brutto usare tinder in generale no ma io non voglio lavorare no allora fammi dire questa cosa stava finendo di parlare se tu parti scusa se tu parti con su tinder metci una e parti dicendo voglio stare con lei è una stronzata non devi voglio stare con lei devi dire voglio uscire con questa e vedere se mi starebbe bene con te sì no è impostata sul ti piace esteticamente punto allora facciamo ti piace esteticamente vuoi scopare sì e allora ci conosciamo ma dopo ragazzi per sdrammatizzare facciamo un gioco che così almeno no vabbè tu sei questo no vabbè allora facciamo un gioco facciamo odorare il nostro piede tutti e tre a Simone e ci devi fare una classifica del piede più profumato al più puzzolente ok dai va bene così si stemperiamo vieni bro ma che c'è va bene va bene mica non ti sei un posto per niente mi piace questo gioco ok ok buono questo allora numero al numero tre allora abbiamo abbiamo tutti e tre odori abbastanza neutri non c'è tanto da da dire godo però lorenzo ha l'odore di un piede di un piede il ph della pelle di lorenzo secondo me è buono c'è un sudore ma è un sudore delicato ha un buon odore quindi lo metto lo metto al primo posto dei piedi sempre detto che lorenzo è sotto messe fertile sempre detto poi c'è il piede di i vostri piedi non sono così distanti ma il piede di omi no fai l'opinire ok ok scusa il piede di omi ha un odore di calza vissuta c'è poco c'è poco c'è poco odore umano è un robot beh che bella tecnica o questo è un coglione sai che stavo ascoltando stavo ascoltando l'album di gioglie su youtube non so perché ma perché gioglie e ho visto vero hater e ho visto una canzone d'amore immagino era napoletano quindi non l'ho capito una canzone d'amore e bro la sezione commenti era tutta gente che scriveva tipo questa canzone la dedico a a maria perché a quella sera al fiume poi eh sì questa canzone la dedico che cazzo spinge le persone a commentare le loro relazioni sotto una canzone su youtube io come quelli che sotto le canzoni tristi scrivono quattro anni fa persi mio figlio e questa canzone mi ricorda ma queste sono cazzate non ci credo che tu ti è morto tuo figlio e lo commenti su youtube ma infatti sei pazzo cioè chi è sta perso voglio conoscere il padre che commenta sotto un video di oh mia fa grazie per avermi fatto stare meglio quando è morto il mio figlio madonna bro c'è un video assurdo su tiktok una stronzata di una madre di una madre che fa un video con mollica assenza e c'è lui che fa questo panino lo dedichiamo a Mauriccio che ci guarda dall'assù come piaceva a lui pomodoro prosciutto e mozzarella questo è per te Mariuccio e la madre di vicino che piange assurda però posso dire una cosa se dovessi morire mettete vuoi finirla? l'ho pensato io mettete qualsiasi canzone la dogana la famosa dogana porca troia l'ho pensato io ho fatto un sorso se dovessi morire mettete qualsiasi canzone tranne questa stoppala stoppala che c'è il copyright va bene bro metterò tiesto io metto shampoo get busy ma è vero che il taglio dei capelli cambia la personalità? io no perché dici? mi onestero anche tu la puoi dire sta parola comunque eh la puoi dire tu suonava strano aspettiamola aspettiamola è divertente solo perché non si può dire ma no dipende lui la può dire ma non la dice spesso io stai indicando me bro secondo me secondo me invece è una parola fighissima perché fa bro finale ma non è e poi anche in base alla tonalità è come dire we bro no ma è bella ti prego non farmi bippare troppe cose però hai capito quello che intendo sono strabente infatti misso qualcosa sì sì fermiamoci qua no comunque ho una domanda questa è una domanda reale non è per il content è mia ignoranza vera ma l'Iran 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 cioè ma io non lo so che continente è continente no ma sono non è Africa è Asia è Asia già no? sì e ora cosa hai guadagnato questa domanda? è accanto alla Mesopotamia ho guadagnato che sono meno ignorante di poco fa perché pensai che fossi in Africa dimmi con quattro no perché so che è lì ma ho detto ma quella parte di mondo che cazzo è in Africa? l'Africa non ci ho mai pensato perché è il sud-est asiatico no? è la seconda cioè il medio-oriente lo chiamano perché gli africani sono l'uomo è nato in Africa poi l'uomo ma questo tra l'altro io non sono d'accordo ma va bene continuo dove è nato? sulla luna? no no poi l'uomo si è evoluto e si è spostato a fare le prime civiltà hanno detto che schifo l'Africa minchia pure loro la odiavano quindi tu non pensi che siano stati gli annunaki a fare ingegneria biomedica sui nostri corpi da primati cosa sono gli annunaki? tipo alieni alieni sono italiano allora io credo che tu ti stai le tue risposte come le risposte che cerca di dare la religione sono dettate dal tuo e dal dal tuo e allo stesso tempo di tutti gli esseri umani e dillo non accettare il no sense della vita ah quindi colmi questo vuoto dicendo che sono stati gli annunaki colmi questo vuoto cercando di dare responsabilità a qualcuno per tue gioie o tue dolori così da scaricarti le colpe e le responsabilità secondo me è assurdo pensare che è tutto casuale bro potrebbe io non lo accetto però no nemmeno io cioè io non lo accetto che non c'era niente c'è stato qualcosa cosa ne frega la storia se non lo accetti però la storia dovrà fare i conti con me prima o poi se tu ci pensi nelle stelle dentro il sole o non so se proprio dentro il sole dentro le stelle ci sono le stesse cose i stessi atomi con cui hai fatto il tuo corpo noi siamo polvere di stelle siamo le stelle siamo l'universo sì è vero è vero ma io penso che quando moriremo comunque tutto imploderà dentro di noi capito perché alla fine è tutta la nostra coscienza che crea tutto il resto cioè quindi quando non esisti più tu non esiste più neanche il resto cioè tu muori tutti sì perché tipo è la mente che crea la tua realtà in realtà è tutto olografico ma mi sembra tutto il resto è noia sai una roba super interessante che ho sentito mi ha fatto scodere il cervello non ho detto gioia ma noia 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 maledetta noia vai avanti Anas praticamente c'è stato un periodo dell'umanità in cui noi i nostri antenati convivevano con un'altra versione di umano tipo i Neandertal a un certo punto ci sono state due specie di umani nello stesso pianeta pensa quanto cazzo è la natura no te lo giuro gli umani l'evoluzione ci ha messo molti anni non penso che il Neandertal stava con l'uomo no però ci sono i cagli e i lupi capito si sono incrociati c'erano anche oggi è così sì ci sono i cagli e ci sono i lupi anche oggi e tu sei un lupo ulula uh e facciamo calcio no comunque questa roba di Neandertal ho visto un documentario che spiegava questa cosa quando dai documentari sono arrivati dai documentari dai Neandertal sono arrivati gli uomini sapiens che non sono i sapiens sapiens che siamo noi c'è stata una sorta di guerra sì che li hanno uccisi ma i Neandertal erano tipo assurdo più alti più grossi più forti più gozzi ma molto più stupidi e quindi era tipo i sapiens si facevano guarda là no loro arrivavano e tipo uno contro uno gli uomini sapiens non potevano vincere ma con l'intelletto con i bastoni hanno messo un pezzo di formaggio sotto una trappola hanno disegnato una galleria e li hanno catturati tutti comunque sarebbe una serie della madonna non so perché non la fanno cioè tipo l'uomo sapiens contro il l'uomo scimmioide comunque non mi veniva in mente scusami fa molto ancora ridere ad oggi tipo il meme quello che facevano all'epoca della scimmia che poi si dalla gobba che sale e poi torna seduto tipo al pc al computer minchia il meme walk assurdo però non lo so ad oggi ci sono ancora delle razze un po' leugenetiche di simone ma se facessimo accoppiare solo i bianchi più intelligenti con gli altri bianchi più intelligenti con gli occhi azzurri potremmo creare effettivamente la specie perfetta però segui il mio ragionamento non c'è non c'è il minecraft non c'è razzismo in quello che sto dicendo ok non c'è razzismo in quello che sto per dire anche il burattinaio da sopra però siamo tutti d'accordo che esistono ancora dei peschi che ricordano delle scimmie no? allora su questa roba mi hai fatto proprio l'alleyup e io la schiaccio dicendoti che non mi ricordo se sono i vatussi o i quelli bassissimi come cazzo si chiamano i pigmei i pigmei i pigmei hanno una media di tipo 50 di coesione intellettivo e sono mega stupidi ma esistono veramente io penso che fosse una canzone no è una tribù tipo africana perché non va a scuola bro i pigmei ma no perché sono ritardati perché sono tipo tutti sono tutti alti tipo ma scusami nasci tu nella foresta senza scuola no ma non è per quello perché se vanno dai vatussi che fa ridere no se vanno nelle altre tribù non hanno il cui basso sono solo non hanno un vocabolario magari capito invece questi hanno proprio il cui basso perché sono alti tipo 1,40 di media e hanno tipo la testa piccola ma sei sicuro di sta roba? anche gli albanesi hanno tutti la testa piatta ma è piatta non è piccola però è in Texas uguale tra l'altro ho letto sta roba su gli albanesi non mi indicare con quel dito chill bro ho letto questa roba sugli albanesi sai perché gli albanesi hanno la testa piatta? no perché è una roba etnica tipo eh perché culturalmente tipo o per povertà non mi ricordo però comunque non dormivano sui letti come noi ma dormivano tipo per terra e quindi gli si è appiattita la testa nel corso degli anni ma è così facile fare delle modifiche al corpo umano allora inizio a fare delle robe assurde così fra nove generazioni voi miei figli avranno capito una genetica assurda però se tutto il mondo iniziasse a camminare con i piedi tipo così capito tra 200 anni avremmo tutti i piedi così beh sai perché gli africani hanno il cazzo grosso perché non hanno portato le mutande per un botto di tempo ma questa è una puttana la gravità ha allungato il cazzo e le palle questo non è vero questo non è vero questo non è vero ma questa gente è vera sì ma gli avete dato l'acqua come si chiama l'acqua dell'aria no dai no no non mi ricordo io la battezzerò dagli un nome dai ma un nome umano un nome umano la battesso la battesso evita peron evita peron cosa vuol dire cioè è un nome sì sì avete capito la pianta si chiama evita peron bello evita ma vabbè ma non è la ragazza di si ma io sto pensando alla first lady ma potremmo chiamarla tiana trump no ormai si chiama così evita peron ma la smetti di guardare i porno bro cioè io non è la moglie di trump tiana trump tu li guardi ancora no è melissa trump qual è la sua chiera preferita la mia cazzo no vado su leak no i leak delle only fans ma conosci qualche canale telegram bro ma basta che scrivi su google cioè c'è google voi non conoscono gli fans di cui sono così disperato che mi cerco i leak boh cioè no ma non è che vai a cercarli sei lì e cerchi e ti capitano dici no no vabbè è illegale questa cosa cosa? guardare i leak o no? forse non è illegale è illegale è legale leakare arrestatemi ma di quelli che fanno porno a pagamento non di quelli morti ma vi ricordo che se mangiare la pizza con le patatine fritte gay allora sborratemi nel culo non guardo i porno di august haynes vabbè ma lei è morta che cazzo è august haynes? è una che è morta ed è morta è morta di cosa? di suicidio come jeffrey epstein dopo la cerco no era molto bella devo dire c'era una porno star che è morta era davvero bella sai che c'era una porno star che è morta perché ha provato a fare il record penso di gangbang più grande o una roba del genere è morta di cazzo è morta di cazzo raga cioè è orribile rispetto non vorrei dire però la frase è morta di cazzo nel culo io mi ricordo anche Shaila Stylitz che da piccolo era una delle mie OG's lei è tipo Lisa Anne ma l'abbiamo fatto ieri è morta di cazzo sì è lui che è morta in carcere e muore di cazzo nel culo vabbè anche lei è morta cioè in realtà in percentuale ne muoiono tante di pornattrici è come nel mondo dello spettacolo in generale muoiono un po' la botte persone ma comunque è una roba mezza disfunzionale facciamo un fanta morto adesso prossime due celebrità che moriranno io secondo me abbiamo tipo al pacino Robert De Niro a breve tipo quest'anno però sono molto simili ai improbili che moriranno entrambi quindi è un picco un po' svantaggioso secondo me cioè scegliono uno dei due capito allora la corona è al pacino la corona come fa a morire Cicalone anche Cicalone però non può morire cosa hai fatto ringraziato hai pregato Dio forse Cicalone non può morire Cicalone muore accoltellato no perché lui è il soldato di Dio non può mica morire è il protagonista e lui è il braccio destro di Allah è il protagonista capito Cicalone è quel meme del militare con le ginocchia per terra che prende tutti i coltelli che prende i coltelli della società capito affinché il bambino possa dormire in pace per me Puff Daddy secondo me Donald Trump è Puff Daddy Puff Daddy è Victor Laszlo perché è Victor Laszlo dice la cosa sbagliata del film è sbagliato esatto la mafia la mafia gay dei film quel take sbagliato su criticoni e finisce tutto ah sì sì ti conosco te sei quello che ha detto che Parasite è brutto ha coltellato 36 volte alla schiena il regista di Parasite